Alice in the City da Vercelli, io sono Linda, voce basso del gruppo, Ottavio, batteria, sono Blanca e sono la chitarra. Noi abbiamo iniziato a collaborare insieme nel 2010, in realtà suonavamo con un altro gruppo e siamo stati contattati da un produttore indipendente per fare un album di inediti. Abbiamo iniziato io e Blanca con un primo singolo, ci ha supportato un batterista che ha trovato questo produttore, poi per caso abbiamo chiesto a Ottavio, anzi in realtà l'abbiamo incastrato perché gli abbiamo chiesto se poteva per cortesia registrare un paio di pezzi per questo album. In realtà poi l'abbiamo tirato nel gruppo, abbiamo iniziato a fare serate, è rimasto per tutto l'album ed è rimasto ancora adesso insieme a noi. Lo sopportiamo più che altro. È avvenuto tutto così per caso, ho registrato i due pezzi, più altri due, più altri tre, poi ho detto vabbè già che ti sei fatto la sbatta studiati anche questi altri pezzi qua perché facciamo un po' pezzi inediti, un po' cover, un po' rivisitazioni e da un po' che non suonavamo, perché? Mi sono trasferita in Germania, al momento non siamo inattivi perché abbiamo ancora in cantiere un progetto, stiamo per registrare ancora qualche pezzo e pubblicheremo presso un EP, ma al momento diciamo che essendo io in Germania è più difficile trovarsi il sabato e suoni chiare, quindi dobbiamo organizzare delle serate e poi ci troviamo e suoniamo come al solito, però è un pochino più difficile diciamo. Sì 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 Grazie per la visione